Candido risveglio per la provincia di Sondrio. Nella notte finissimi fiocchi bianchi hanno immerso in uno scenario da cartolina anche il Fondovalle di Valtellina e Valchiavenna. La coltre si è limitata a pochi centimetri di spessore, quanto basta per regalarci scorci spettacolari senza fortunatamente creare disagio alla viabilità. In quota a circa 2000 metri la neve ha raggiunto i 15 centimetri sulle orobie e i 5 centimetri sulle retiche. Non si esclude neve anche nella giornata di domani, mentre dalla serata è previsto l'arrivo di una corrente freddissima da nord con raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Rimane stazionario l'indice di pericolo valanghe che al momento non è preoccupante. Uno strato che però dovrà essere monitorato perché potrebbe trasformarsi in lastroni di ghiaccio e fare da scivolo ad eventuali nuove precipitazioni nevose provocando valanghe. Massima attenzione sulle strade nelle ore notturne, l'abbassamento delle temperature infatti potrebbe formare sulla strada ghiaccio insidiosissimo per chi viaggia.